E' tutto pronto per la chiusura della quarta edizione della Primavera dell'Arte promossa dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Trischedion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio tra cui la Proloquo e il Chivanis Club. Domani alle 21 nella straordinaria location delle Mura Timoreontè di Caposoprano è prevista la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte. Un evento straordinario in cui si avrà un percorso molto particolare con attori di teatro, scenografie davvero emozionanti quindi per un'attività che si svolge per la prima volta qui nell'area del parco. C'è da dire che dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale di Gela per aver partecipato alla manifestazione andando a ripulire e recuperare l'area. Questo è un atto importante, un atto dovuto che fa sì che le associazioni, i gruppi possano promuovere delle attività iniziativa in siti così importanti. Potremmo godere delle Mura, delle fortificazioni greche al Chiar di Luna quindi non ci sarà niente di artefatto ma un percorso emozionale che il cittadino potrà vivere attraverso flash teatrali come ha detto lui e attraverso un percorso emozionale dove avremo lo scopo di raccontare la scoperta delle Mura, delle fortificazioni greche. Inoltre saranno presenti le scenografie e il maestro Insulla con le sue opere. Dobbiamo trovare un punto da cui ripartire. La ripresa di siti come questi che magari per certi versi sono stati abbandonati negli anni diventa uno dei punti di partenza. La possibilità che in questi siti si possano realizzare eventi importanti come quelli organizzati e come quello che ci sarà nella serata di domani diventa un punto altrettanto importante da cui ripartire. Il compito di un'amministrazione è creare le condizioni di sviluppo e noi in questa direzione ci stiamo muovendo. Siccome questo è uno degli unici parchi fruibili in sicurezza in città e soprattutto in un'area, quella di Capo Soprano dove la creazione di strutture edilizie non ha lasciato spazi per i più piccoli, spazi liberi, ecco questa è l'area su cui vogliamo puntare per renderla fruibile 24 ore su 24 per permettere alla città di goderla in tutta sicurezza e possibilmente con la presenza, come diceva l'assessore Morello di spettacoli, di attività che possono coinvolgere l'intero territorio e magari qualche turista in più.